Presidente, un esito estremamente positivo del colloquio con il generale Figliuolo che ha avuto parole di grande apprezzamento per l'operato della Sardegna. Assolutamente, una riunione operativa che testimonia come la leale collaborazione tra istituzioni sia tutta coordinata a dare risposte ai cittadini e a superare questo momento di grande emergenza nella pandemia. Con il generale Figliuolo e l'ingegner Curcio, il capo dipartimento della protezione civile, abbiamo stilato un elenco di soluzioni che possano al più presto far accelerare in maniera determinante la campagna vaccinale per raggiungere l'immunizzazione di tutta l'isola del Paese. Lei ha fissato alcuni punti, i controlli negli scali nazionali che precedono l'arrivo in Sardegna che hanno dimostrato qualche falla in passato e il potenziamento del personale da impiegare nelle vaccinazioni per arrivare alla quota 17.000 a metà aprile giornaliere. Abbiamo ribadito con forza che il sistema dei controlli non può essere agli arrivi in Sardegna e solo a scarico della Regione. Ci deve essere un sistema nazionale di controllo di tutto il traffico passeggeri, sia su navi che su aerei, in maniera tale che ogni volo, ogni nave diventino Covid-tested e ci si possa muovere con la garanzia di non contagiare nessuno. Sotto il profilo dell'implementazione del personale ci siamo dati un obiettivo lungimirante che è quello di arrivare gradatamente prima a 11.000-12.000 dosi a metà aprile per andare a regime con 17.000 non appena arriveranno anche i vaccini della Johnson & Johnson. Una speranza in più anche per la stagione turistica che arriverà presto. Stiamo mettendo in campo tutto quello che possiamo per restituire ai cittadini una nuova normalità, la possibilità di riappropriarsi dei propri spazi, della propria vita, la possibilità per il sistema economico-produttivo di riprendere il lavoro, di riprendere la creazione di valore e ricchezza per tutti i cittadini sarti.